Chris, non penso di riuscire a dirti addio. Nessuno si sta dicendo addio, amore mio. Non ti lascerò mai. Mai. Tu racconta la nostra storia. Non devi inventare niente. Racconta solo la verità. Buonasera. Ieri mattina hanno trovato due corpi seppelliti nel giardino di una casa a Mansfield. È la sua firma, questa? No comment. Tutto ok, Susan, puoi rispondere. Sì, scusi, è la mia firma. Quanto segue, è reso conto degli eventi per come li ricordo. Il primo obiettivo è dimostrare che è spazzatura. È sicura che Chris non fosse coinvolto? Gliel'ho già detto, Chris non c'era! Il secondo obiettivo è capire cosa sia successo veramente. Non serve a inventare niente, racconta solo la verità. Lui fa una cosa e io un'altra e non siamo insieme. Come si può essere così stupidi? Non è come sembra. Bisogna solo fare un po' di chiarezza, tutto qui. Qualunque cosa sia, resterà tra di noi. Tra te e me. Chris! Racconta solo la verità.